Noi siamo qua per fare la protesta per l'aumento dei blocchetti Mensa, poiché è stata aumentata la decisione dal sindaco, come hanno detto che non c'hanno fondi, noi non siamo abilitati economicamente di affrontare questa spesa di 37,50 euro la minima retta, poi chi supera il reddito si arriva fino a 75 euro. Noi vogliamo pagare, ma come l'anno precedente di 25 euro. Noi tutte le mamme abbiamo deciso che lunedì dobbiamo fare una protesta verso mezzogiorno perché vogliamo ottenere questa riduzione del prezzo del blocchetto della Mensa fino agli anni scorsi e quindi se ci vietano di entrare del cibo dall'esterno noi abbiamo deciso di ritirare i bambini, di fare comunque una protesta tutte quante insieme. Il protocollare al Comune di Pagani che è questo, costo del servizio mezza scolastica. I sottoscritti genitori degli allunni della scuola elementare materna di Circolo Collodi che per l'anno scolastico 2010-2011 usufruiscono del servizio Mensa, fanno presente quanto segue. Pressoché consultando i prezzari relativi al contributo da versare per l'adesione al servizio Mensa per l'anno scolastica 2010-2011 è stato evidenziato un drastico aumento delle tariffe con un aumento medi superiore al 50% e punta e superiore ancora del 75%. Grazie a tutti.